checkpoint charlie episodio 15 simulazione diretta o indiretta ciao a tutti benvenuti a questa nuova puntata questo nuovo episodio di checkpoint charlie il podcast sul gioco la storia e tutto il resto è voluto chiamarlo così ben trovati a tutti e ben trovati appunto a questa nuova puntata di checkpoint charlie che oltre a essere podcast sul gioco la storia e tutto il resto lo sapete bene è anche un podcast che si mette molto sulla linea di confine dei vari generi delle varie tipologie ludiche e proprio di questo andremo a parlare in questa puntata dedicata ai diversi tipi di simulazione partendo proprio da quelle che sono le categorie la classificazione dei giochi che spesso ci appassiona ci fa dire di un titolo ah ma questo gioco è un wargame oppure questo è un euro game oppure questo è un american o è un german o è questo o è quest'altro questo podcast fra l'altro nasce un po da un dibattito da una discussione che come sempre è proficua è qualcosa di bello di giusto che aiuta tutti noi e tra l'altro alcune idee che voi sentirete adesso in questa puntata mi sono venute fuori partendo proprio da questa discussione che è partita sul gruppo degli amici di casbelli il gruppo facebook sul board wargame più seguito in italia in cui un utente a un certo punto aveva cominciato a parlare di time of crisis chi segue vlog lo conosce bene vedrà che ci sono diverse puntate su time of crisis parlando appunto di time of crisis però poi alcuni amici di casus belli sono intervenuti dicendo eh sì bello tanto carino time of crisis però non è un wargame non è una simulazione eh in particolare amico maro faina eh poi dopo eh non sono intervenuto in maniera molto competente e molto documentata come sempre fa eh vista la sua conoscenza e la sua esperienza ma poi ha dedicato anche una prima parte il suo bellissimo podcast che io veramente se non lo conoscete ma io credo che voi lo conosciate comunque se non lo conoscete andate a sentirlo assolutamente iscrivetevi che è il Gianizzaro Nero che è un podcast veramente eccezionale ottimo sul sul wargame beh dicevo ha eh dedicato la metà più o meno di una puntata proprio a questa discussione dicendo perché certi tipologie di giochi certi titoli secondo lui non sono non appartengono alla categoria del wargame non appartengono alla categoria della simulazione eh appartengono ad altri tipi di eh altre categorie di giochi benissimo l'ha fatto sulla base ripeto in maniera molto documentata molto ragionata sulla base delle sue conoscenze delle sua esperienza che è assolutamente eh molto rilevante io invece ovviamente sono non sapete della posizione opposta d'altronde non starete ascoltando un podcast cioè con Charlie che per definizione sta sulla linea di confine di diverse categorie di giochi studia appunto queste linee di confine questi territori un po' grigi no eh di incontro e di confronto e secondo me personalmente Time of Crisis non solo è un wargame non solo è una simulazione ma è accidenti è un bel wargame è una bella simulazione riesce in alcuni punti in cui simulazioni che hanno sistemi più tradizionali non riescono a rappresentare riesce a rappresentare alcuni aspetti storici in maniera particolarmente elegante e particolarmente efficace che altri giochi più tradizionali non riescono eh a rappresentare e allora ho voluto fare anche questo questo episodio di Checkpoint Charlie partendo dalla mia conoscenza dalla mia esperienza che oggettivamente anch'io ragazzi è della metà degli anni ottanta che combatto con esagoni CRT e quant'altro e continuo ancora e mi ci diverto tantissimo anch'io sono cresciuto a pane a esagoni anch'io un'esperienza pluridecennale ho un po' di conoscenze quindi volevo un po' metterle al vostro servizio perché voi possiate farvi un po' un'idea di questo dibattito che c'è perché effettivamente è un dibattito che c'è nella community dei wargame l'abbiamo visto anche in occasione degli ultimi Charles S. Roberts Awards che hanno premiato anche alcuni titoli che sono dei titoli ibridi addirittura ibridati con forme di wargame e che quindi si allontanano da quello che viene percepito come il wargame tradizionale allora tutta questa roba è o non è una simulazione beh allora adesso vorrei dire anche la mia così sentite un po' anche varie avete anche varie posizioni tra cui scegliere c'è trovare la vostra perché ripeto queste discussioni sono bellissime sono molto proficue sono fertili di nuovi spunti anche per noi che abbiamo le nostre conoscenze le nostre esperienze e anche per voi così sapendo le varie opinioni potete formarvi una vostra opinione personale questa è la cosa bella la diversità nell'ambito anche nell'ambito di un hobby comunque specialistico come quello del gioco di simulazione storica allora anche io vorrei dire la mia cominciamo dire la mia allora innanzitutto la famosa domanda che spesso ci si fa di fronte al titolo ma questo gioco è o non è un wargame secondo me è un po' malposta andrebbe riformulata in un altro senso andrebbe riformulata come questo gioco che ha come tema come concetto come oggetto un'azione bellica e quindi per definizione è un wargame perché un gioco sulla guerra un gioco di guerra è un wargame questo gioco allora questo gioco è o non è una simulazione e se è una simulazione che tipo di simulazione è perché vedete qui c'è già quello che secondo me è un po' il primo equivoco che wargame e simulazione sono sinonimi ma manco per niente io lo dico sempre a qualcuno fa arrabbiare mi spiace ma continuerò a dirlo risico è un wargame è un wargame astratto di simulativo a pochissimo alcune cose geografiche più o meno però è un wargame non è un wargame simulativo eccoci qua già vedete la domanda diventa posta in una maniera un po' diversa cioè questo gioco che è ad ambientazione una guerra per me può anche avere un'ambientazione della guerra fantastica ok quindi non o ipotetica per altri invece deve essere solo storica ma non stiamo per lagarci queste questioni questo gioco qui è simulativo oppure no cioè rappresenta con le sue meccaniche una realtà effettiva mettiamo a questo caso una realtà storica oppure no ecco cominciamo a scendere wargame simulazione e quando noi andiamo a dire sì comunque rappresenta in qualche maniera una realtà di riferimento che tipo di simulazione vedete che quelli scuso non è che si fa tanto più complicato rimane sempre semplice però è un attimino più profondo rispetto a è un wargame non è un wargame è una simulazione è una simulazione c'ha l'esagono non c'ha l'esagono si va un pochino più in giù vedete dobbiamo tra l'altro una cosa importante dobbiamo concentrarci e questo è quello su cui io parto sempre con approccio non tanto su definire che cosa non è un wargame perché vedete che è già negativo prendiamo il suo titolo tiriamo fuori dal campo dei wargame va perché questo non è un wargame boom e sta fuori ma soprattutto dobbiamo concentrarci invece dobbiamo capire cosa in effetti sia un wargame cosa sia una simulazione e come questa opera e vedete che la visione è rovesciata dobbiamo vederla secondo me in positivo perché se no noi andiamo a tirare fuori da un recinto certi titoli prima di aver definito la forma e l'estensione del recinto stesso questa cosa non fa parte di questo gruppo ma questo gruppo com'è come è fatto quali sono le sue caratteristiche fondamentali siamo sempre più è più facile più immediato andare a ragionare negativo no questo non ne fa parte prima dovremmo cominciare a pensare ok quali sono i criteri per cui un gioco possa far parte del gruppo del recinto del wargame e poi ancora della simulazione ricordando che wargame e simulazione non sono affatto sinonimi qui già entriamo in qualcosa di più interessante abbiamo un po definito cosa è wargame cerchiamo un pochino di capire che cos'è la simulazione diciamo sempre simulazione simulazione gioco che rappresenta per via analogica l'azione simile all'azione cioè ha delle meccaniche che hanno sono determinate da una realtà di riferimento voglio rappresentare le ardenne la battaglia delle ardenne voglio rappresentare batterlo voglio rappresentare la battaglia di maratona faccio delle meccaniche le calibro in modo me le invento me le calibro in modo che rappresentino bene quella realtà di riferimento come è andata la battaglia di maratona per dirvi ok questa è una simulazione è una simulazione della battaglia di maratona più o meno efficace perfetto ok questa è una simulazione non è che c'ha delle meccaniche che creo le meccaniche poi dico ma queste meccaniche possono assomigliare come andata la battaglia di maratona allora ci metto la battaglia di maratona sulla copertina e nel titolo perché così è come ragionano giustamente anche gli euro game ambientati storicamente ma non è il caso per esempio rimanendo stretti non è il caso per esempio di time of crisis perché time of crisis non è che c'è le meccaniche e poi ci ha appiccicato sopra la crisi del terzo secolo ha utilizzato quelle meccaniche per rappresentare la crisi del terzo secolo ora quindi è una simulazione questa è una simulazione la simulazione opera in vari modi e secondo me poi sapete anche i libri gli articoli scritti opera in due modi fondamentali alle alle tutte quante le specificazioni eccetera ma molto semplice una simulazione diretta e una simulazione indiretta qual è la la differenza la simulazione diretta opera sui singoli fatti specifici rappresenta il fatto specifico nell'esagono 13 50 c'era la ventunesima divisione di fanteria quello era il fatto questo è un fatto specifico almeno questo quello che ci dice la ricerca storica è un fatto e quindi opera su quello e mettendo la ventunesima divisione infanteria nell'esagono 13 50 rappresenta la realtà storica fatto diretto immediato ok la simulazione indiretta invece si occupa più che dei fatti delle dinamiche dietro quei fatti che cosa ha portato la ventunesima divisione a essere in quella esagono in quell'area che cosa ha portato ad armarla equipaggiarla in quella maniera ad avere quegli obiettivi nello scenario andiamo un pochino lavorare prima che sul fatto specifico sulla dinamica che ha causato il fatto vedete che è indiretta la cosa perché il fatto che noi abbiamo una ricerca storica ci dice che la ventunesima divisione era in quel punto e questa è la simulazione diretta e ce lo piazza in quel punto mentre invece la simulazione indiretta ci ci porta che cosa ha portato andiamo a rappresentare che cosa ha portato la divisione in quell'esagono lì e capite che l'ottica è un pochino sfalsata è un approccio ad una rappresentazione storica che anche qui possiamo fare un'altra distinzione un approccio da un lato quantitativo cioè sul dettaglio storico la quantità di dettaglio quanta roba devo simulare devo simulare il fatto che c'era una unità che si chiamava ventunesima divisione che aveva queste caratteristiche specifiche che aveva queste necessità logistiche queste modalità di muoversi queste modalità di ricevere i comandi eccetera quindi una quantità di dettaglio da un lato e da un lato un approccio qualitativo che cosa devo simulare devo simulare il fatto che questa unità si chiamava ventunesima divisione così importante sì e beh lo posso mettere sulla pedina ma di per sé è così importante ad un livello alto storico di gestione del comando è importante che questa si muova di quattro esagoni anziché cinque sì certo per carità è importante ma se invece degli esagoni faccio le aree per tirvi o se anche nell'ambito degli esagoni gli do un movimento variabile di turno in turno è importante che mi vado a gestire 24 punti di logistica per turno che ogni offensiva costa tre punti quindi vado a segnare le varie offensive oppure utilizzo un altro sistema come possono essere le carte i segnalini pescati a caso eccetera per capire quante offensive posso spendere posso fare in quel turno vedete l'ottica è spostata dal fatto specifico ci spostiamo verso la dinamica che ha creato quel fatto quindi i due i due sistemi hanno due modalità di funzionamento diverse è chiaro che le simulazioni indirette che spesso hanno dei sistemi di semplificazione perché all'apparenza sono più semplici non andate a spendere 24 punti di logistica ogni turno avete delle carte che vi dicono quante quante offensive potete fare in quel lavoro non ripeto è chiaro che le simulazioni indirette o leggere o più semplificate come volete che però vanno sulle dinamiche piuttosto che sull'aspetto apparentemente più semplice apparentemente più semplice come le volete chiamare hanno i loro problemi perché si perdono una quantità di dettaglio lavorano sulla qualità cioè su che cosa devo rappresentare non su quanto devo rappresentare e quindi hanno i loro problemi questo non è inutile nasconderselo però anche le simulazioni iper dettagliate e più complesse e mica sono esenti dai loro problemi anche dal punto di vista della rappresentazione storica non è che sono meglio di per sé questa è la mia posizione la mia opinione cioè il problema è che le simulazioni iper dettagliate più complesse con più dettaglio diretto probabilmente simulano di più ok più cose ma non è detto che simulino queste cose meglio con la stessa efficacia con la stessa efficienza perché non è detto che darvi la possibilità di gestire in maniera così granulare così dettagliata 24 punti di logistica vi mette esattamente nella stessa posizione del comandante perché comandante non lo sa quanta logistica c'ha in una settimana più o meno sì ma non se ne occupa manco lui da delle direttive vedete che si sposta la cosa la simulazione iper dettagliata io quello che la critica gli ho sempre mosso è che vi mette in troppe scarpe contemporaneamente cioè vi fa essere il comandante il comandante della logistica il comandante del supporto aereo il politico il comandante del del sul campo il comandante di compagnia cioè è troppa roba tutta questa quantità di controllo non ce l'avevano storicamente ho sempre detto non è che lì ci aveva quando ha lanciato la carica di piccata gettysburg che c'era l'abaco allora c'ho il 24 per cento di probabilità di farcela con oltre i 40 di non farcela no magari l'avrebbe voluto magari non aveva mai lanciata la carica di piccata ce lo siamo sempre detto no lui a certo punto andava per istinto ecco e questa la la particolarità che alle volte la simulazione quantitativa diretta iper dettagliata era troppe informazioni vi da troppo controllo vi da troppa granularità e se i comandanti se chi prendeva le decisioni storicamente in una simbola situazione storica non avevano questo controllo improvvisamente la simulazione ve lo dà la simulazione meno efficace di un'altra che dà meno controllo dà meno dettaglio perché chi prendeva le decisioni in quel momento aveva meno dettaglio non è detto che tutti quanti i comandanti avessero una mappa esagonata davanti nessuno ce l'aveva questa mappa esagonata negli anni 50 è inutile che ce la diciamo tanto pensate che nel creak speed originario nell'ottocento c'era un arbitro che diceva di quanto potevi muoverti che cosa ti succedeva poi tiravi dei dadi con i risultati speciali sembrava combats e colors per certi versi pensate che era il creak speed originario era così inutile quello dai switz è così quindi di nuovo attenzione a pensare che la simulazione diretta quantitativa sia meglio di quella di per sé rispetto a quella indiretta qualitativa perché quella qualitativa prende magari più aspetti magari in maniera più generale meno definita però li prende meglio potrebbe prendere potrebbe alle volte no alle volte non ce la fa non è una garanzia non è adesso non sono giudizi di valore questa è la cosa importante ognuno ha le sue criticità ogni singolo aspetto ogni singolo metodo approccio però ecco non è detto che la simulazione diretta con più dettaglio sia di per sé storicamente più valida di una di una indiretta poi ovviamente c'è anche il problema della complessità l'abbiamo detto spesso le simulazioni indirette risultano all'apparenza alla gestione del giocatore più facili ma perché magari c'è stato un lavoro maggiore da parte dell'autore prima a fare una simulazione diretta probabilistica non dico che sono bravi tutti però non è che ci vuole chissà quale sforzo le tabelle balistiche le tabelle della logistica questa roba le distanze di marcia ce l'abbiamo tutti non ci vuole chissà quale genio andate a fare una simulazione non lineare indiretta fatta bene che non sia a cavolo lì lì è più difficile cioè qui il problema tra la complessità nascosta il problema è la semplicità evidente il mio amico giudino andrea giudino dice sempre parla sempre di complessità nascosta sistemi che sembrano semplici ma in realtà non lo sono tanto semplice cioè sono semplici da gestire per il giocatore ma dietro l'autore ci ha fatto tutto quanto un lavoro sui materiali sulle dinamiche sui componenti la semplicità apparente che l'altra parte sembra così semplice ma in realtà non lo è di per sé le meccaniche sono semplici ma andate a livello strategico non è semplice manco niente cos'è la complessità nascosta è rendere in maniera semplice gestione immediata aspetti complessi e quindi appunto le carte di mazza e manovra di wings of war che vi limitano l'aereo sulla base della composizione del mazzo di quel singolo aereo vi sembra tutto naturale tutto semplice metto la cartina faccio la manovra in realtà dietro la composizione quel mazzo c'è tutto un discorso storico di rappresentazione storica di simulazione fatto come si deve che lo rende più simulativo di blu max in su glorie un'altra categoria rispetto a blu max come simulazione anche se è più semplice assolutamente vedete in questi giochi la semplicità non è il fine cioè non è che faccio questo gioco perché sia semplice andante non è stato fatto così perché sia semplice punto e basta sì questo è un di più anche la semplicità era uno degli obiettivi ma non è stato fatto solo per quello la semplicità è un mezzo per rendere gestibili facilmente gestibili dinamiche storiche più complicate non è che i car driven nascono per semplificare gli ex encounter nascono per introdurre anzi per gestire in maniera semplice dinamiche che gli ex encounter gestivano in maniera troppo complessa troppo macchinosa gestirla appunto in maniera semplice più semplice però introducendo quelle dinamiche politiche economiche che gli ex encounter non ce l'avevano prima però senza le carte gestivano in maniera molto più macchinosa qui io poi parlando di car driven lo sapete è una mia passione poi qualcuno mi dice ma inutile che tiri fuori von clauswitz no lo tiro fuori e come perché von clauswitz nel suo della guerra ci dice guardate a guerra è mica una partita a scacchi che la cosa che gli assomigli di più un gioco di arte è inutile che ci cioè c'è una mano buona o una meno buona comunque se in quel momento te la devi gestire com'è e questa è la guerra e le carte vi danno una marea di combinazioni di strade possibili stavo a cercare di capire come nel poker come nel ramino come nella scala 40 quale colore più facile che mi venga per il tris o per quest'altra combinazione è questa è anche questa è la guerra è molto semplice non c'è niente di complicato e diciamo allora citi von clauswitz la fai complicata no la faccio semplicissima però lo cito von clauswitz perché von clauswitz è quello che se voi pensate che la guerra è una robina fatta ad esagoni e crt e ha rapporti di forza e allora tiro il dado la variante la funzione matematica e la posizione precisa no sappiate che c'è un'altra persona lo dico sempre che dice col cavolo che se voi vedete una unità su di un singolo esagono su di una mappa non quell'unità sta in quella singola mappe in quel momento questa persona è kevin zucker l'autore della libro arriva napoleonic battles che c'è scritto un articolo sulla rivista appunto dell'operational studies group della sua working design della sua della sciaccia di retrici ma col cavolo se voi vedete quell'unità napoleonica in quel punto sulla ma non pensate assolutamente che stia lì in quel momento che sono una rappresentazione di massima vedete che qua abbiamo un'altra idea di dettaglio e vedete che diventa un pochino meno ieri o e la live ronda forno mic battle sex counter crt e quant'altro ma ma anche chi ha fatto l'esagono che ha fatto la crt è il primo a dirvelo che ci sono diversi modi di rappresentare l'attacco la rappresentazione della realtà non può essere piccola che si provi più provi a farla precisa più sbagli e perché ci sono tutta una serie di approssimazioni di nuovo altro grande autore philip sabin con il suo keep it simple stupid in kiss no dice ma i giochi più semplici alla fine sono quelli che rendono meglio la realtà storica sia perché introducono meno discussioni sia perché ti permettono di comprendere meglio la realtà storica se stai pensando economia cognitiva non stai pensando troppo alle regole stai pensando a quello che succede sul campo di nuovo vedete che ne abbiamo di autori anche appartenenti alla scuola classica che dicono piano sta cosa dalla complessità del dettaglio immediato della simulazione diretta di buttarci dentro tutti questi dettagli piano con calma cerchiamo di evitare un sovraccarico cognitivo che poi dopo va a ledere anche il valore simulativo perché più roba simuliamo più introduciamo distorsioni paradosso di essig se voi mettete dieci tiri per capire se un cannone buca una corazza di un carro dieci tiri diversi con dieci procedure diverse di nessig multimed publishing non proprio un ibrido euro wargame voi introducete più distorsioni per ogni singolo tiro di dado una distorsione se voi invece avete un'idea di massima sulla percentuale usate un solo tiro di dado avete prodotto meno distorsioni che il sistema è più valido dal punto di vista statistico e simulativo vedete tutti autori classici qui c'è un po un legame con le differenze di due scuole di design soprattutto nel wargame ma non solo nel wargame nella simulazione in generale il design for detail e design for effect molto semplicemente design for detail introduco dettaglio 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 perché penso che introducendo dettaglio 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 introduco più storia il design for effect faccio una meccanica di modo che l'effetto finale sia rispondente alla realtà storica se ci metto più o meno dettaglio sì è interessante non è interessante ma quello che mi interessa è il risultato finale non mi importa il dettaglio 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 ci metto dieci tiri di dado il design for effect ci metto un solo tiro di dado ma che quell'unico tiro di dado abbia un peso maggiore e sia più calibrato storicamente è chiaro che simulo meno roba meno dettagli meno aspetti di una vicenda però forse di simulo meglio o almeno ci provo introducendo dettaglio 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 e basta sì ho l'idea l'impressione di mettere più roba però introno anche più distorsioni di nuovo sono vali tutti e due gli approcci però tutti e due hanno delle diverse criticità e delle diverse problematiche non è così non è così semplice questi approcci di design quindi vediamo da un lato un design più che va verso una rappresentazione una resa più probabilistico lineare e la resa non lineare quella che io di cui ho parlato tanto nel libro il gioco di anna cioè uno linearmente rappresenta in maniera probabilistica tutti i singoli aspetti tutti i singoli pezzettini di un evento un altro per via non lineare va a rappresentare le dinamiche vedete che sono due cose diverse ed è diverso anche il flusso di gioco perché nel primo caso nei sistemi diretti lineari le informazioni sono esplicite cioè voi ce l'avete lì davanti c'è una tabella della logistica una tabella del supporto aereo una tabella del movimento una tabella del tempo eccetera eccetera lì davanti dall'altra parte nelle simulazioni indirette non lineare avete più una attenzione più sull'esperienza di gioco quindi sull'esperienza effettiva di quello che poteva provare a comandante abbiamo detto prima con lì uno c'ha l'abaco lì con l'abaco che ok andiamo avanti diciamo il 24 per cento con piquet perché diciamo il 24 per cento di possibilità di successo l'altro è vedo lì nordisti gli abbiamo svuotato il centro attacchiamo al centro ecco questo è secondo me lì era più vicino alla seconda posizione che è la prima che spiega la follia della carriera di piquet ma spiega anche perché un wargame deve rappresentare anche una certa follia nel anche dei certi errori nell'ambito della gestione bellica è che le strategie erano sempre fatte a puntino precise 1 la simulazione diretta un flusso in uscita delle informazioni che dal gioco le informazioni del gioco vanno ai giocatori dall'altro è un flusso in entrata cioè l'idea è il giocatore che agisce sul gioco nel primo caso il dato diviene incontro tramite tutte queste tabelle tutti questi dettagli nel secondo caso siete voi che imponete una certa visione di gioco anche al di là di quelle che sono gli equilibri matematici del gioco che poi non sono noti perché sono più nebulosi ma perché probabilmente più nebulosa è la realtà caso specifico vedete facciamola semplice che poi mi dicono che sono troppo complicato le unità non identificate che è una grande cosa se c'è un cubetto di legno non c'è il nome dell'unità allora non è un gioco storico se c'è un'unità generica anche non solo il cubetto di legno per esempio fire in the lake coin no non è un wargame perché c'ho un cubetto che mi rappresenta in generale una truppa americana una truppa sud vietnamita e non mi dice che reggimento che compagnia in quel momento allora non è storico o verdant verdant 1916 stile inferno no c'è c'è le listelline di legno non c'ha questo reggimento questa brigata questo battaglione eccetera questo fatto delle unità che non sono identificate io l'ho detto sempre non è una sciatteria e no è la rappresentazione del fatto che a un certo livello di comando se voi siete i comandati se voi siete i generali siete westmoreland non c'è il numero dell'unità non mi importa non mi importa chi c'è di mi importa sapere più o meno quali sono le sue capacità tattiche ma non ce le avete quantificate a singolo punto forza c'avete di nuovo non c'avete la crt e da un certo livello di comando certe differenze non le senti più sai che c'hai 5.000 uomini in quel punto 10.000 in quest'altro 200 cannoni in quest'altro ancora sai che più o meno c'hanno una certa capacità e certe caratteristiche le utilizzi in quella maniera può perfino essere un messaggio storico se non addirittura politico bellissimo in fire and the lake che tu muovi ste pedine questa mappa tu te ne stai a washington lontano o a da noi lontano no e muovi tutte queste persone le utilizzi ma non sai neanche chi sono non ti interessa è anche un messaggio un po politico questa cosa quindi attenzione e però questo messaggio e probabilmente questa impostazione è più storica perché per te aspetta cos'è il trentasettesimo il trentottesimo il trentanovesimo reggimento di fanteria allora perché il trentanovesimo c'ha cento uomini in più il trentottesimo c'era 200 in meno no gliene importava niente erano cubetti di legno su di una mappa così ragiona un comandante di capo è inutile perché deve ragionare così se no se si perde nel micro dettaglio nel micromanagement è finito perché perché la simulazione diretta di nuovo iper dettagliata vi mette in troppe scarpe in troppi vestiti contemporaneamente vi fa cambiare troppi cappelli durante la simulazione la simulazione in diretta vi mette in meno ruoli di solito quelli più elevati nella 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 catena di comando alle volte no è comunque di solito così quindi come vedete l'approccio è completamente diverso da un lato l'importante che tu abbia tutte le informazioni possibili quante più informazioni possibili dall'altro è l'importante che tu sia nel ruolo ti senta più nel ruolo del soggetto storico in cui ti voglio identificare e che quindi tu abbia un'esperienza più simile a quel soggetto storico giusto sbagliato entrambi approcciano le loro criticità l'approccio indiretto può prendere delle cantonate meravigliose cioè proprio completamente fuori fuori di senso terrificanti devastanti perché appunto sbaglia nella visione di una cosa storica dall'altra parte l'approccio iper dettagliato iper complesso può esagerare appunto mi hanno detto poi mentre una sacca di istruzione poi non è anche detto che certi eventi problema abbiamo lo si sa del wargame antico non è detto anche che certe fonti storiche certe nozioni storiche siano effettivamente così così precise mettere un'unità in un certo esagono di un gioco iper dettagliato su maratona come il great baltons of history sulle battaglie di alessandro può cambiare tutta la battaglia e però tu c'è tutti gli esagoni gli esagoni lo devi mettere esattamente quel punto lì però magari è sbagliato perché storica ma in buona fede è sbagliato mentre invece utilizzare un gioco più ampio più indiretto hai un'area quindi alla fine è un approccio che non è che ti cambia tanto se era in una collina piuttosto che in un'altra si può un pochino più sfumare però la rappresentazione storica rimane valida perché il sistema opera su altri livelli vedete queste sono le criticità però questi altri livelli di una simulazione indiretta leggera quello che volete potrebbero essere completamente sbagliati e andare completamente via avere un risultato completamente distorto anche questo sono tutte cose un po da da valutare allora adesso tutta questa bella teoria però io vorrei scendere di nuovo nella semplicità fare qualche caso concreto di singoli temi storici argomenti storici e come sono stati trattati da una simulazione diretta e da una simulazione indiretta ok e vedere un pochino le differenze ma molto semplicemente proprio delle citazioni degli spot poi poi voi ne troverete sicuramente altri per esempio l'antichità abbiamo parlato l'antichità impero romano da un lato abbiamo un gioco come imperium romanum di al nofi che è un momento assoluto un classicone dall'altro abbiamo time of crisis ok proprio partiamo da queste due proprio da time of crisis dove avevamo cominciato imperium romanum è perfetto nel rappresentarvi tutte quante lo spostamento delle truppe l'evoluzione dell'impero tutte le problematiche eccetera su di una mappa con una serie di track di varie di varie meccaniche di punti eccetera time of crisis vi dice che vi rappresenta ovviamente nel nei panni di un di un wannabe imperatore di uno che vuole diventare imperatore che si crea la propria base di potere una carta alla volta con il deck building e queste carte sono calibrate sulla realtà del terzo secolo col cavolo che lo posso prendere da un'ambientazione e spostarlo in un altro time of crisis non funziona perché quel quelle carte sono quei mazzi sono fatti quelle meccaniche sono fatti sulla base dell'impero romano nel terzo secolo il gran macello che era impero romano nel terzo secolo soprattutto poi si usate anche l'espansione di giovario nel rasta che introduce carte ulteriormente e meccaniche ancora più specializzate questa è la differenza tra i due imperium romanum rappresentazione diretta e immediata di tutte quante le i singoli aspetti dell'impero romano dall'altra parte time of crisis questa esperienza di creare una propria base di potere e di gestirla in modo di trovare il momento giusto in cui fare l'assalto a trono imperiale oppure fare uno sta un impero a parte ancora altro caso andiamo nel mare wooden ships and iron man da una parte sales of glory io ho parlato di wooden ships and iron man è considerato giustamente un classico assoluto riferimento per il wargame navale della cosiddetta age of sail dell'età della vila dei velieri ma sales of glory a livello simulativo gli è superiore manco di poco perché andate a vedere come viene gestito il vento in wooden ships and iron man il vento va a scatti di 60 gradi sull'esagono quindi la nave o controvento o sottovento o favore c'è proprio ta 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 c'ha degli stadi discreti molto precisi e le navi c'hanno a parte qualche caso tutte quante scattano nella stessa maniera poi influisce in maniera diversa però lo scatto del vento è uguale sales of glory la stessa classe la stessa tipologia di nave ha il vento che millimetricamente sulla base lo colpisce da un'influenza diversa sulla base della caratteristica di quel veliero lì guardatevi le basi di sales of glory vedrete che il vento non scatta più a botte di 60 gradi scatta botte già una semplificazione ma è accettabilissima botte di un grado di 360 gradi a me pare molto più preciso sales of glory per quanto possa sembrare più semplice per questo io lo ritengo superiore e perdonatemi manco di poco con dei ships non perché woody ships sia brutto ma perché sales of glory è bellissimo ma sales of glory è arrivato credo 30 40 anni dopo normale poi qui attenzione questa è brutta questa coppia advanced squad leader undaunted lo so ce l'avevo detto che era brutta che era folle eccetera eccetera no 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 buoni 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 amici hassler lo so lo so lo so quello che state pensando no no non è che è un don'ted vale come asl o addirittura vale di più no no come simulazione no 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 piano io asl lo amo mi piace tantissimo va benissimo e poi c'è una cura di dettagli pazzesca è il gioco tattico sulla seconda guerra mondiale di riferimento e non è che sta su di pianistallo è giocato e vivo e in evoluzione in cambiamento continuo ed è un monumento una cosa ma non è solo un momento perché sta lì qualcosa di vivo di vitale che assolutamente ce lo consegue però andante altre cose un altro approccio che ha delle altre validità per esempio andante degli si dice tanto per carità non c'ha la linea di vista sì lo so però è vero anche che c'ha i fattori sulle singole tessere che se vedete su degli esagoni vabbè quello che volete però è andante ha l'importanza delle truppe della recond degli scout delle truppe di ricognizione provvisamente la ricognizione non è che sono dei fanti debolucci ma servono e come perché se tu non hai fatto ricognizione in un'area in quell'area non ti ci muovi non c'entri quindi sono fondamentali gli scout e dall'altra col fatto che quando ti colpiscono comincia a perdere carta e quindi i tuoi uomini diventano meno reattivi rappresenta in maniera molto precisa molto interessante dal punto di vista storico il fatto che un comandante comincia a perdere il controllo sui suoi uomini man mano che questi uomini subiscono perdite poi altri problemi un po di nel fatto la simmetria non la simmetria tutte queste il tiro fortunato ma per carità c'ha mille però eh no andante del simulativo è simulativo e cavolo se è simulativo e non è proprio la stessa cosa può farlo poi dopo nel punto di vista medievale o fantasy eh ma assolutamente no soprattutto con nord africa che è ancora migliorato e poi adesso da quello che so anche reinforcements che introdurrà ulteriori elementi di asimmetria tra le varie tra i vari eserciti ulteriori scenari e tutto quindi veramente molto interessante poi altra coppia sempre classico con uno più moderno ma vabbè no attenzione più moderno diverso una simulazione indiretta ferdreich classico né quarter master general allora di nuovo ferdreich è bellissimo cioè quarter master general però non è risico smettetela di pensare che sia risico perché con tutte queste carte 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 quarter master general vi fa capire perché certe offensive erano possibili solo di un'area e non un'altra la simmetria rende molto bene la simmetria tra i diversi paesi diverse nazioni coinvolte rende molto bene la necessità di un gioco di squadra tra diverse nazioni di un'unica coalizione non è da poco poi l'altro che io personalmente sono molto legato panze della gmt erede di 88 della gmt di altri e tank duel allora qui mi spiace qui è un punto di totale disaccordo tra me e mauro perché lui dice ma tank duel non c'è la mappa c'è solo le carte quindi non è una simulazione io amo panzer perché ci tengo molto perché panzer per me è la migliore simulazione di mezzi colazzati attualmente presente nel settore world game mistico ma ad un certo livello con un certo approccio tank duel è la migliore simulazione di mezzi colazzati per entri del mercato che vi piazza dentro il singolo caro armato perché vedete quando voi avete la mappa questa bella mappa esagonata questa è molto importante ma voi pensate che il comandante dentro un carro ci avesse una mappa esagonata olografica in cui sapeva ok questo carro lo sposto qui ma un pochino più vicino a questo fiume no ma questo un pochino prima di questo albero perché così mi mantengo la loss e l'iniziativa il comandante di un carro sta dentro un coso uno scatolotto di acciaio con delle fessure nella seconda guerra mondiale soprattutto con delle fessure grandi più o meno 10 centimetri per 20 più o meno a guardare fuori che appena prova ad aprire il portello a mettere la capoccia fuori per capirci qualcosa di che gliela taglia un colpo di un carro nemico una mitragliata di fan della fanteria nemica e quindi questo ve lo dà tank duel e ve lo dà meglio di panze perché andatevi a leggere le memorie di chi stava dentro questi gari sapete come si comandava un carro avanza di 400 metri e fermati lì lì sul limiterà del boschetto che è successo ma no aspetta ho beccato questo fangoso questo pezzo fangoso ah ci siamo impigliati mettiti di fianco su quel carro nemico quale carro nemico no quest'altro è così che funziona un carro armato la guerra corazzata se la vedete al livello di quel singolo carro e quindi le carte sono un ottimo sistema sapete come era front per un ottimo sistema gestire con le carte con le carte gli scontri infanteria della seconda guerra mondiale sono le carte sono un ottimo sistema sono un sistema migliore anche rispetto agli esagoni panzer è ottimo per darvi una prospettiva diversa più sellevata di un comandante più alto in grado ma il controllo è eccessivo per il singolo carro l'esperienza di stare dentro il singolo carro ve la dà tank duel e sapete perché tank duel ha la stessa identica valenza simulativa di base rispetto a panzer perché utilizza le stesse tabelle talistiche le stesse tabelle balistiche hanno gli stessi le stesse variazioni tra i tre cannoni modelli le corazzature eccetera andate a guardarvele le hanno prese da lì tank duel e panzer con le carte panzer buttato dentro i due o tre carri è la stessa identica cosa e quindi è una simulazione almeno pari come valori è un wargame almeno pari rispetto a panzer e mi dispiace su questo un po mi ci prendo perché amo tantissimo panzer e amo tantissimo tank duel e dire che tank duel non è un wargame per me è come dire che panzer non è un wargame per me è la stessa cosa e questo francamente faccio un po fatica ad accettarlo visto che la base dei due è diversa solo prendono due strade differenti poi altro caso ne abbiamo parlato sul blog atlantic chase qualsiasi wargame navale con gli esagoni eccetera precisino eccetera ed atlantic chase atlantic chase si basa che peraltro c'ha pure gli esagoni si basa sul fatto che voi non sapete non solo dove è il nemico ma nella seconda guerra mondiale sapete manco più o meno dove stanno le vostre stesse unità vedete la differenza uno vede il dettaglio che quella la bismar che sta nell'esagono 12 42 sia che le vediato o meno atlantic chase è ma dove cacchio sta dove è finita la hood dove è finita la mia prince of wales dove stanno più meno spero che più o meno intercettino non so manco in che punto finiranno con intercettarle le navi tedesche atlantic chase si mette più nell'esperienza e non è un gioco particolarmente semplice non è particolarmente complesso anche se sembro di 80 pagine di regole non sono spiegate molto bene sono fatte molto bene è un gioco anche relativamente agevole ma non è da giocare ma non è un giochino semplice non mi venite a dire che atlantic chase non giochiamo allora non è un wargame atlantic chase stiamo scherzando infine ultimissimo ultimissimo andiamo nella fantascienza perché lasciatemelo dire non è che un wargame è wargame un gioco è un wargame solo se è un wargame storico una simulazione solo storica no c'è tutto un ambito un filone di simulazione fantastica fantascientifica meraviglioso che non mi voglio perdere e che non voglio evitare di definire wargame per esempio un caso battletech ok battletech provate a dire provate a dire che battletech non è un wargame io credo che veramente rischiate qualcosa di fronte a dei fan di questo gioco che sta con noi da 40 anni la fasa e tutto il resto veramente veramente eccezionale e battletech anche battletech ha due manuali differenti che il cosiddetto classic battletech che quello con gli esagoni mac con l'arma la corazzatura il singolo dettaglio del singolo del singolo mac e adesso da qualche anno c'è anche il regolamento alfa strike che è un pochino più astratto e tre virgolette è semplificato poi se andate a giocarlo in maniera seria non è semplificato manco per niente qual è la differenza tra i due che battletech classic il classic battletech è così granulare che difficilmente farete scontri più di quattro mac per parte per quanto sia meraviglioso dal punto di vista narrativo del dettaglio della rappresentazione diretta fantastico alfa strike però col fatto di astrare alcune cose vi permette di schierare più mac e quindi avere un gioco di compagnia a livello che non più quattro mac per parte quattro bottoni per parte ma un'intera compagnia e credetemi chi lo conosce sa quanto è dettagliato battletech tra moduli e contromoduli e quindi anche armi combinate veicoli fanteria diverse tipologie aeree e tutto e quindi di fare un'azione di più a livello tattico più elevato apparentemente più semplice però e introduce degli aspetti che prima nel degli aspetti di gestione è proprio di specializzazione delle singole lance del singolo gruppo di mac e di veicoli che il classic battletech si ce le ha però se provate a metterle sono quasi ingestibili perché c'è troppo dettaglio sul singolo veicolo sul singolo mac ecco battletech classic classic battletech vi mette ai comandi del singolo mac del singolo bottone e alfa strike voi vi sentite più come il comandante che guarda questa mappa lui sì che ce l'ha la mappa olografica nel posto di comando perché è fatta a scienza e quindi aggiornata al momento sta facendo un'operazione più ampia ma come comandante de carlo nella seconda guerra mondiale che è così che allora è così che ti dischi hanno travolto la polonia e la francia nel 39 e 40 perché c'erano le mappe olografici dentro i carri no non funziona così panzer e tank duel è una cosa che veramente mi colpisce molto da vicino come avete visto vabbè quindi io vi ho fatto un po di esempi adesso andiamo a chiudere senza farla troppo troppo lunga allora in conclusione tutte queste che vi ho detto non è che sono giudizi di valore ah è meglio senso glori rispetto a wood and ships o a romeno ho detto che man è meglio andonte rispetto a sl per carità non sono neanche equivalenze ho detto neanche che è la stessa roba no sono cose diverse ma sono approcci diversi con risultati diversi ma che hanno una radice comune cioè il gioco di simulazione è esattamente questo il motivo per cui vale la pena giocare titoli appartenenti a tutti questi gruppi e si considerarli entrambi dei war game si considerarli tutti delle simulazioni anche se di tipologie con approcci diversi perché ci danno risultati diversi ci danno rete rappresentazioni diverse e questo è fondamentale è la ricchezza no delle war game della simulazione giocassero solo una singola cosa una singola non solo che noia ma avremo solo una singola visione iper specialistica cioè quello che fanno sia la simulazione diretta che la simulazione indiretta è arrivare entrambe lo stesso identico obiettivo cioè la rappresentazione di una realtà storico o meno pur se con strade e metodi diversi la l'idea l'obiettivo ottenere una più completa credibile comprensiva e comprensibile rappresentazione storica o comunque degli eventi di una determinata situazione anche fantastica o ipotetica quindi questo è importante perché se noi capiamo che l'obiettivo è lo stesso e allora noi capiamo anche che anche dire ma giocare ad un certo titolo piuttosto che ad un altro non in realtà non mi porta all'approfondimento storico se gioco a time of crisis forse in fondo dell'approfondimento storico non me ne importa più di tanto no questo secondo me è molto sbagliato o meglio sbagliato non è vero non è corretto non è che se io gioco a time of crisis mi importa meno della storia certo che anche a time of crisis mi porta all'approfondimento storico in maniera diversa con approcci diversi è una roba in più non è una roba in meno perché vedete è un approccio differente alla rappresentazione anche al racconto storico uno è una cosa importante la storia anche la storia militare nello specifico non è fatta solo di ordini di battaglia è fatta anche di ordini di battaglia è fatta di analisi delle variabili delle tendenze politiche delle tendenze economiche del scontro culturale delle religioni di tanti altri aspetti anche aspetti non cinetici cioè non legato al singolo movimento del singolo reggimento sul singolo campo di battaglia certo c'è l'ordine di battaglia quello è fondamentale però non è solo quello perché quello è un mezzo sapere l'ordine di battaglia è un mezzo per farti capire qual è l'equilibrio storico la dinamica storica che si verifica in un certo momento vedete se adottiamo questa visione più ampia che attenzione attenzione non è questo è meglio questo è peggio e che sono validi entrambi allora capite che cambiamo l'aspetto cioè passiamo da un discorso di tolleranza sì se volete potete giocare pure questi se volete sì esistono anche queste simulazioni voi questi giochi poi non chiamatele simulazioni beh dalla tolleranza passiamo ad una coesistenza cioè anche queste sono simulazioni ad un'integrazione reciproca queste sono simulazioni di tipo diverso che appunto ci danno visioni diverse dello stesso evento giocandole entrambe utilizzandole entrambi abbiamo una visione più ampia dello stesso evento perché per piacere poi un'altra cosa veramente in chiusura smettiamola di contrapporre tradizione e innovazione perché molto spesso in questo discorso c'è anche il problema dell'ibridazione perché molto spesso queste simulazioni indirette prendono aspetti meccaniche da euro game allora se introduciamo questi aspetti da euro game il war game perde la sua caratteristica la sua identità non è più quello no è più war game è più simulazione l'innovazione è la tradizione questa è una cosa che mi è capitata per altri versi su facebook ultimamente ma l'innovazione è la tradizione non sono due termini contrasposti non sono uno contro l'altro non sono neanche interdipendenti tra di loro l'innovazione dipende dalla tradizione la tradizione è l'innovazione è l'innovazione che si è fatta tradizione no 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 sono la stessa identica cosa tradizione e innovazione solo che sono una cosa che viene vista in due momenti storici diversi se lo vediamo prima che si verifichi che abbia tutto quanto il suo e vi spieghi tutto il suo effetto e innovazione se lo vediamo dopo che ha dispiegato il suo effetto e tradizione che cos'è tutta questa roba è evoluzione perché il gioco di simulazione è sempre stato evolutivo sempre stato innovativo sempre stato sperimentale fin dai tempi della volanilla delle spie a e di tutto perché l'esagono è una delle forme di simulazione indiretta più belle più efficaci a maggiore complessità nascosta più ibrida che esista questa cosa di rappresentare il momento diagonale tagliando gli angoli del quadrato genio genio puro esattamente come le carte esattamente come il deck building esattamente come il cheat pool tutte queste belle cose qua esattamente come le ibridazioni con alcune meccaniche da euro game poi se andate a vedere queste meccaniche da euro game ce lo siamo sempre detto derivano loro volta da meccaniche di war game e di simulazioni precedenti e alla fine è sempre un cerchio che si va a chiudere quindi veramente per chiudere forse è il caso di mantenere il tutto molto più semplice molto più lineare no smettere di spaccare i capelli in sedici parti di essere schiavi delle categorie piuttosto che utilizzare queste categorie come strumenti di comprensione godiamoci insieme i nostri war game con le nostre ovvie giustissime preferenze personali che rispettiamo assolutamente le nostre visioni però lasciando che tutti seguono liberamente la propria strada senza dire questa è la strada vera questa è stata mia sì se vuoi ma in realtà non è quella vera no lasciamo che tutti seguono le proprie strade dando a tutti la possibilità di scegliere chi preferirà un approccio chi ne preferirà un altro in assoluta libertà c'è spazio per tutti i tipi di war game tutti i tipi di simulazione tutti possono convivere non solo sarebbe il minimo ma anche sostenersi tranquillamente a vicenda e anzi è bello poterli giocare entrambi tutti questi e in generale potrei giocare tutti queste tipologie diverse tutte queste tipologie diverse di simulazione ecco io vado a chiudere qui scusatemi sono un pochino come sempre poi alla fine che mi vado a colorare io ripeto lo rispetto assolutamente le opinioni di tutti veramente che partono da conoscenze esperienze e quant'altro metto a disposizione le mie conoscenze la mia esperienza che è pari a quella di altri che hanno posizioni e opinioni diversi perché voi possiate farvi una vostra posizione potete fare una vostra opinione prendere una vostra posizione questo è anche il senso un po di check point charlie e di tutto quanto il lavoro che facciamo anche insieme dico sempre insieme qua su vlog e su tutti quanti gli altri canali questo è quanto quindi io fra l'altro commentate parliamone qui sotto nella descrizione perché poi questo podcast arriva anche su youtube parliamone su shipionet discutiamo il server discord quello dei creatori di contenuti dove trovate anche i contenuti di mauro quindi così potete confrontare direttamente vedete quella bellezza di shipionet potete confrontare e dibatterlo insieme contenuti anche diversi ma insomma visioni varie di vari appassionati insieme liberamente in amicizia e in serenità aspetto veramente le vostre opinioni e i vostri commenti come sempre vi saluto vi auguro buon divertimento ci vediamo alla prossima puntata il nostro turno di guardia finisce qui ciao a tutti grazie 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 a tutti.